pronti partenza via sei pronta ad allenarti con me ti faccio vedere un esercizio che non può assolutamente mancare nella tua routine perché lavorerà tutto il viso guarda partiamo subito fascia e siamo pronte ad allenarci partiamo con i pugni no che lingua superato quindi non ripete dieci volte per tre è un esercizio fortissimo che ti riscalda tutto il viso e lo tonifica sentirai un forte calore proprio su tutta la parte bassa rifallo tutti i giorni e in più se vuoi seguire proprio l'abbonamento skin gym e restare sempre informata su tutti gli esercizi allora abbonna di subito perché il 20 giugno ci sarà una lezione imperdibile